formiche dove guardi vedi formiche io non mi ricordo mai di tante formiche a maggio tutto il giorno avanti e indietro partono vuote e tornano cariche ogni tanto però qualcuna torna e basta vuoto, com'era partita? vuol dire che qualcosa è andato storta vai a sapere cosa? hai zuccherato? non dovevo possibile che in questa casa non riesco più a bere a mangiare qualcosa di buono portami a questa notte grazie chissà che non mi faccia bene come è passato la notte? non bene dottore, non bene dolore? il fatto è che non sente ragioni non prende le medicine a tempo debito che c'è? mi sembro cambiato beh, insomma ma che cosa gli hai detto? ma che perché che io ho detto? gli hai detto che è peggiorato io? lui ha chiesto se aveva hai fatto quella faccia ma che faccia ho fatto? quando uno sta in queste condizioni serve tanto guarda che se sei stanco continuiamo la prossima volta stanco contano fino a dieci ciò che non è scontito festivo c'è qualcosa che non so e io lo dicevo che non si sarebbe più rimesso ma che aveva esattamente? non si è capito bisognerà andarci eh sì abitano lontano lontanissimo già allora noi andiamo è ora ciao papà non staresti più comodo sul letto? devi mettere in ordine ma non ti dà fastidio ma che dici? o sono io il disordine? papà papà per favore perché fai così? cerco di resistere mi dispiace papà anche a me papà grazie a te grazie a te grazie a te